Ciao ragazzi! No? Benvenuti! Oggi parliamo di... Flam! Oggi parliamo di questo rudimento che secondo me è veramente sottovalutato, però è utilissimo e può essere suonato con mille sfumature diverse. Allora, per prima cosa, un flam che cos'è? Un flam consiste in due colpi ravvicinati, uno più piano e uno più forte, quindi in una ghost note e in un accento. Prima la ghost e poi l'accento. Quindi verrà in questo modo. Quindi, per prima cosa, bisogna sapere bene la differenza tra colpo piano e colpo forte, cioè accento. Mettendoli insieme viene un flam. Però la difficoltà vera del flam è il fatto di non avere un tempo, perché la distanza tra le note non ha un tempo particolare, perché è un flam questo ed è un flam anche questo. Però suonano completamente diversi. Il primo è molto più largo, il secondo è molto più stretto. E questa è la figata dei flam, perché facendo sempre la stessa cosa possiamo avere tante pronunce diverse. Noi dobbiamo essere capaci a suonare i due colpi più o meno ravvicinati. Quindi partiamo con la bacchetta sinistra in basso e la bacchetta destra che fa l'accento. Ovviamente per i mancini sarà il contrario, anche se poi invertiremo, ma vabbè. All'inizio lasciamo tanto spazio tra i due colpi, in questo modo. Questo praticamente neanche è da considerare il flam. Però in pratica dobbiamo cercare pian pianino di stringere la distanza tra i due colpi fino a farlo diventare unisono. Il fatto di aumentare la velocità un pochettino quando tendiamo a stringere ci sta, non è un problema. Non vi preoccupate. Stessa cosa la facciamo anche di sinistra. Quindi destra a ghost e a sinistra suona l'accento. Questo è un esercizio preliminare per avere il controllo di quello che stiamo facendo. Sulla batteria suonare un flam molto più stretto o un flam molto più largo è completamente diverso. Allora per prima cosa andiamo a fare i flam alternati, quindi flam di destra, flam di sinistra, flam di destra, flam di sinistra. Mi raccomando fate questo movimento qua. Quindi la mano che avrà fatto la ghost, ad esempio nel primo colpo alla sinistra, poi dovrà tornare su per fare l'accento successivo e così via. Le due bacchette dovranno fare un po' tipo altalena. Una su e una giù. Piramide. Uno di destra, uno di sinistra, due e due, tre, tre, quattro e quattro. Quindi saliamo e scendiamo dalla piramide in pratica. Altri esercizi, uno per le terzine e uno per i dicesimi. Contate che questi esercizi qua, anche quelli di prima, servono un sacco per i polsi perché pensate a fare un flam. Nel momento in cui fate dei flam alternati, una volta fate l'accento, una volta fate le ghost, ma tutte le volte suonano tutte e due le mani insieme. Calmi, non andate troppo veloci che rischiate di farvi del male. Quindi adesso facciamo tre di destra, mancini, sentite sempre tutto al contrario. Tre di destra, tre di sinistra e poi sei colpi alternati. Ovviamente quando andate su di velocità è normale che il flam un pochettino si restringa perché se no non c'è proprio spazio. Stesso esercizio ma con sedicesimi, quindi quattro destra, quattro sinistra, otto colpi alternati. Direi che basta. Cominciate a fare questi flam qua e poi ne vedremo degli altri perché rudimenti con i flam ce ne sono veramente tantissimi. Quindi mi raccomando scaricate il pdf che trovate qui sotto in descrizione, commentate qui sotto se avete qualsiasi richiesta. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.